timido e timido, oh guarda è in quella fase, sopportabile, insopportabile, ma sai la preadolescenza è la preadolescenza, quante etichette diamo involontariamente ai nostri bambini senza accorgercene e in che modo questo anziché aiutarci va in realtà a peggiorare le cose e a dannezzare la relazione con loro, lo esploriamo in questo episodio, ciao e benvenuto al piccoli passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore, sono Clio mamma di due bambini passato in azienda oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori tempo per crescere e oggi ti invito a sperimentare nuovi punti di vista sulle etichette nascoste che diamo ai nostri figli e come danneggiano la relazione, un respiro, un sorriso e cominciamo. Ben ritrovato, ben ritrovata, ce la posso fare, spero che tu stia bene, che abbia passato una bella settimana, che le cose con i tuoi bambini vadano alla grande anche se sei qui probabilmente perché ogni tanto ci sono delle cose su cui aiuto, Clio aiutami come si può fare ed ecco perché il podcast è qui e questo episodio è nato proprio da una riflessione personale, no? Perché lo sai, ogni tanto lo racconto, mia figlia grande che tra poco compirà 11 anni, sta entrando nella preadolescenza e quindi ci sono un sacco di situazioni simpatiche, un sacco di situazioni più o meno faticose a che affrontiamo e che affrontiamo insieme ed è stato interessante per me osservare dopo un po' di tempo le mie attitudini nei suoi confronti, cioè che dopo un po' di situazioni e di dinamiche che si erano venute a creare in cui litigavamo, in cui lei mi rispondeva in un certo modo, io ribattevo e nonostante tutto poi clash, litigi, fatica, ma perché devi far così, ma perché tu non fai cosa, perché non mi capisci, ma perché tu non capisci me, quelle cose simpatiche che colorano un po' le nostre vite, mi sono resa conto che, ok, io avevo utilizzato l'interpretazione della fase di ingresso in preadolescenza per aiutarmi a capire certi suoi atteggiamenti, certi suoi comportamenti che mi mettevano in difficoltà, no? Perché poi ognuno è fatto naturalmente a modo suo, io sento sempre spesso il bisogno di capire un po' più a fondo le cose, di darmi una spiegazione per poter scegliere poi come agire in maniera pertinente, per sentirmi rassicurata di fronte a certe scelte rispetto che altre, insomma per avere una guida vado alla ricerca, no? Della causa o delle cause, di dare un'interpretazione più completa e più profonda a quello che avviene. E quindi, forte di libri, letture, studi, consulenze, robe varie, negli ultimi dieci anni, mi dico ok, perfetto, riesco a interpretare il comportamento, stiamo dentro questa cosa, nel suo cervello succede questo, fase dello sviluppo, bene bene, non sono pronta ma ok, è così, partiamo, evviva! E questo però mi ha portato a fare tutta una serie di commenti di fronte, no? Sai quando vai al parco, incontri gli amici, incontri la famiglia e magari c'è la sbuffata, alzo gli occhi al cielo, la frase e quindi a dire, eh sì, è la preadolescenza, è preadolescenza qui, la preadolescenza là, e a iniziare a fare una serie di commenti che di fatto, ovviamente non me ne rendevo conto sul momento, di fatto davano un'etichetta, no? A mia figlia, né più né meno di come quando uno comincia a definire proprio figlio testardo, testarda, timido, timida, oppositivo, oppositiva, capriccioso, capriccioso, qualunque sia l'etichetta che è un po' grosso, paurosa, eccetera, eccetera, qualunque sia l'etichetta che diamo. Il problema delle etichette è che di fronte a un bambino o un ragazzo o una ragazza, insomma, che ha ancora un'identità in divenire, no? E la cui identità e la costruzione dell'identità si forma almeno in parte sulla base del feedback che gli arriva, soprattutto dai genitori o dagli adulti di riferimento, e poi naturalmente man mano che crescono dai compagni, dalle compagne, insomma dai coetanei, il fatto di vedere che l'adulto di riferimento incasella e utilizza un determinato tipo di aggettivo per descriverlo o descriverla, fa sì che inizia a vedersi attraverso quella descrizione, quella categorizzazione, e a rinforzarsi all'interno di quella descrizione. E questo è un altro meccanismo che avviene nel cervello in automatico, a agire a rinforzo di quella stessa descrizione in modo inconsapevole. Se dico al mio cervello che sono timido, allora se sono timido, affronterò con timidezza, in modo timido, anche altre situazioni, vado a creare una sorta di feedback e di rinforzo e di conferma, il tema confirmation bias, per dire al mio cervello, come dire, per confortarmi nella convinzione che mi sono fatto o che mi sono fatta. Quando si dice che vogliamo avere ragione, vogliamo avere ragione anche quando ci fa male, anche quando non è utile, anche quando non è la cosa più efficace o che corrisponde al nostro desiderio. Il meccanismo inconscio del nostro cervello è quello di andare alla ricerca e di confermare questa convinzione, piuttosto che di dover ricreare delle nuove connessioni neuronali per formare una convinzione, una credenza, un pensiero diverso. E quindi è questo un po' il pericolo delle etichette che diamo ai nostri figli, di imprigionarli in qualche modo, all'interno di un comportamento, soprattutto quando è un comportamento che non è per forza quello che vorremmo per loro. E di richiuderli, di rimprigionarli in qualche modo, di imprigionarli in qualche modo, scusatemi, all'interno di un'identità che poi si porteranno dietro per un po' di tempo, fino a che magari non riprenderanno in mano con consapevolezza e crescita personale la cosa e dirsi no, non voglio più stare dentro questa etichetta, ma causa una certa fatica. Quindi se riusciamo a evitarglielo, tanto meglio. Ma era interessante, è stato interessante per me rendermi conto di come inconsapevolmente iniziamo a mettere in campo questo automatismo di dire a mia figlia in preadolescenza, guarda è preadolescente, lo vedi, è la ribella come i preadolescenti. E giorno 1, giorno 2, giorno 3, a iniziare a costruire questo schema di risposta dove per cercare di dare, come dire, una conferma, una validazione della mia fatica. Era un mio bisogno quello, ero io che stavo affrontando la fatica di non capire più mia figlia, come facevo prima, di non sapere più, di non ritrovarmi più immediatamente nel capire il perché dietro le sue risposte o i suoi atteggiamenti e di capire come prendermi. Nella mia fatica di riadattarmi a una nuova fase della nostra relazione, a una nuova fase della sua crescita, era il mio bisogno di poter trovare nelle persone, nei miei contatti, nelle persone intorno a me, come dire, una convalida, no? Una validazione delle mie emozioni, della mia fatica. Che qualcuno mi dicesse, caspita, povera te, che ti trovi ad affrontare questo? Eh, certo, capisco. Eh, deve essere difficile. Ed era in risposta a questo tentativo di, come dire, di conforto in qualche modo, di essere vista io nella mia fatica, che inconsapevolmente mettevo in atto questo automatismo di etichettare mia figlia all'interno di questa categoria del preadolescente ribelle e quindi senza rendermene conto di rinchiuderla in qualche modo in questo circolo vizioso. Ora ti racconto questa storia perché possa esserti utile nel tuo quotidiano a guardare un nuovo sguardo alle frasi che dici magari senza troppo pensarci, no? Quindi incontri il vicino di casa, la vicina di casa, la mamma, papà, gli amichetti, le altre mamme all'asilo, questo vale per qualunque età abbiano i tuoi figli, no? O i tuoi genitori, insomma, quelle conversazioni un po' così, no? In cui ti chiedono dai come va, cosa ne dici, oppure in cui osservate, siete insieme presenti durante un'interazione con i tuoi bambini che ti risulta un po' difficile e prova a osservare che tipo di risposte dai automaticamente, no? Ma quelle piccole scene, non so, appunto incontri, entri nel negozio e tuo bambino non dice subito buongiorno, non saluta, o ciao, insomma, non saluta o si dimentica di dire grazie. Cosa dici in automatico? Magari dici è un po' timido o timida? Quali frasi hai come automatismo lì sulla punta della lingua che tiri fuori? In queste situazioni sono quelle che sono interessanti perché sono quelle situazioni dove si è un po' quel pilota automatico, no? Non sei per forza, non sono per forza quelle situazioni un po' diverse, un po' particolari dove quindi tendiamo a essere più presenti. Sono talmente fluide, talmente semplici, non richiedono più di tanto l'attenzione e quindi tante volte è più facile che si inneschino questi meccanismi automatici. E quindi lì che è interessante per te andare a guardare attraverso le tue risposte magari automatiche e provare a vedere, ok, ma questo messaggio che io sto dando, che cosa rinvia il mio bambino o la mia bambina? È un messaggio incoraggiante, è un messaggio di apertura, è un messaggio che rinvia la mia fiducia nei loro confronti o è un messaggio di critica più o meno velata? È un messaggio di giudizio, è un messaggio che categorizza in un modo che non è utile? E cosa cambia? Come posso fare per rivolgere il mio sguardo, anche proprio a livello di sguardo, di guardare i miei bambini o di rivolgermi a loro come, non so, nel mio caso la ragazza più in gamba che conosco. Uno sguardo di ammirazione, di piena fiducia, di credo nel tuo potenziale, di so che darai il meglio, di so che vedo in te una grande luce, un grande potenziale di questo tipo di fiducia qua. E prova a vedere cosa cambia quando riesci a portare consapevolezza su questo e riesci a, davvero, è proprio un pensiero alla fine, no? E uno sguardo. Se ti immagini nei film, no? In particolare nei film un po' romantici, ci sono sempre quelle inquadrature in cui vedi lo sguardo di lui o lo sguardo di lei, pieni di affetto, di amore, di desiderio. Non c'è bisogno che dicano niente o che facciano niente, già nello sguardo si percepisce l'intensità dell'emozione e l'intenzione, no? E il modo in cui considerano l'altra persona in quel momento e quanto è incoraggiante nel vero senso del termine, quanto è validante, quanto dà fiducia a un bambino o una bambina, a un ragazzo o una ragazza, vedere il proprio genitore guardarlo con quegli occhi pieni di orgoglio, pieni di fiducia, più di mille parole. E quindi anziché sostituire l'etichetta con un'altra e cercare magari delle frasi diverse, prova a vedere anche come soltanto spostare la tua intenzione, spostare il tuo modo di guardare cambia le relazioni tra te e i tuoi bambini. Sono curiosa di sapere come va, quindi fammi sapere nei commenti e naturalmente se hai domande in merito sarò felice di poter rispondere anche con un altro episodio di podcast. Io intanto ti ringrazio e ti do più da me. Alla prossima!